Tante emozioni ma alla fine il vincitore è sempre lui. Mark Marquez conquista il GP di Thailandia con un sorpasso al Cardio Palma su Andrea Dovizioso. Il duello tra i due è diventato serratissimo e ricco di emozioni negli ultimi giri della gara fino agli ultimi metri quando lo spagnolo della Honda ha avuto la meglio sul pilota della Ducati. Terzo posto per Maverick Vignales, quarto Valentino Rossi. Le Yamaha hanno dato segni di vita in questo GP aumentando forse i rimpianti per questa sciagulata stagione. In ea classifica generale non c'è più speranza o quasi per i rivali di Marquez. L'Iberico infatti guida con 271 punti più 77 su Andrea Dovizioso a quattro corse dal termine. Il discorso mondiale sembra ormai una questione di tempo. Marquez tra l'altro potrebbe laurearsi campione del mondo già tra due settimane in Giappone. Quinto successo nel GP del Giappone. Altra vittoria e titolo ad un passo. Lewis Hamilton completa uno splendido weekend trionfando a Suzuka ed ipotecando il campionato del mondo. Alle sue spalle il compagno di scuderia Valtteri Bottas che va così a confezionare la quarta doppietta stagionale per le Mercedes. Terzo Max Verstappen, poi Daniel Ricciardo protagonista di una super rimonta e le due Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Il tedesco della rossa dopo una partenza sprint dalla quarta fila è stato protagonista di un incidente che lo ha relegato ai box e al diciottesimo posto costringendolo così ad una gara tutta in salita e chiusa in sesta posizione. In classifica generale adesso Hamilton ha un vantaggio di ben 67 punti su Vettel il 21 ottobre, appuntamento negli Stati Uniti dove l'inglese della Mercedes potrebbe chiudere i giochi. Giampiero Ventura è il nuovo allenatore del Chievo Verona. A comunicarlo è stata la stessa società veneta, il tecnico sostituitare l'esonerato d'Anna. Insieme a Mister Ventura, si legge nel tweet della società, anche il vice Salvatore Sullo e il preparatore atletico Alessandro Innocenti, da tutto il mondo giallo-blu, un caloroso benvenuto mister. Ventura arriva in una piazza difficile con un Chievo in difficoltà e che lotta per non retrocedere, visti i tre punti di penalizzazione ricevuti per la vicenda delle plusvalenze. Il ricorso della Juventus contro la chiusura per un turno della Curva Sud non è andato a buon fine. Infatti il giudice sportivo l'ha respinto, non solo è stata anche aumentata la pena portando le giornate di squalifica a 2 più 10.000 euro di multa. Il giudice sportivo aveva condannato la curva bianconera dopo i cori razzisti a Cunibali nella partita contro il Napoli. Rivoluzione in casa Venezia. L'allenatore Stefano Vecchi è stato esonerato. Troppo al di sotto delle aspettative il rendimento della squadra veneta dall'inizio della stagione. Questo sembrerebbe il motivo principale. Decisiva per l'esonero, la sconfitta per 1-0 contro il Perugia. Al posto di Vecchi è stato annunciato Walter Zenga. L'uomo ragno torna ad arerare un club italiano dopo l'esperienza non molto positiva in Serie A con il Crotone, dove l'ex portiere dell'Inter non era riuscito a salvare i calabresi dalla retrocessione.